Il Villamare Festival si appresta a festeggiare la maggiore età con un ampliamento del suo raggio d'azione e delle sue collaborazioni. Siglato l'accordo con l'ANAC, l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, confermato il suo dalizio con il Rotary Club Sapri Golfo di Policastro, ottenuto per la prima volta il patrocinio di Lega Ambiente Nazionale, grazie alle pratiche plastic free messe in atto sin dal 2018, la Kermess, organizzata da 105 TV, amplia il numero di amici. grazie ai rapporti instauratisi nel corso delle varie edizioni e inaugura alcuni piccoli cambiamenti nella sua formula. Sarà una settimana intera, quella dal 23 al 30 agosto, ad accogliere le proposte culturali del Festival. Dal 23 al 25 agosto, presso la saletta allestita all'Hotel Le Piane di Villamare, con accesso gratuito a tutti, verrà proiettato un centinaio di corti selezionati fra i tantissimi arrivati. Il Festival ha deciso di avvalersi, in questa difficile prima fase di selezione, della collaborazione prestigiosa dell'ANAC. L'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, organismo storico che unisce registi e sceneggiatori, nato negli anni 50 per iniziativa di un gruppo di autori come Agge, Scarpelli, Zavattini, e oggi presieduta da Francesco Ranieri Martinotti, istituirà un comitato di selezione che avrà il compito di individuare l'Official Selection del Festival, da cui poi la giuria artistica sceglierà i finalisti 2019 e i vincitori. Il frutto di questa importante selezione, esclusi i corti finalisti, sarà proiettato nei primi tre giorni della Kermess. Dal 26 al 30 agosto, invece, si andrà in piazza Portosalvo per gli incontri con i protagonisti, gli spettacoli e la gara vera e propria, quella tra i lungometraggi e quella tra i corti. Quest'ultimi, oltre che per il premio assoluto da 1000 euro, concorreranno anche per la vittoria del premio Lega Ambiente, conferito dall'Associazione presieduta da Stefano Ciafani, al migliore corto su tematiche ambientali, e al premio speciale un corto per i Rotari del valore di 1500 euro, attribuito ai corti che parleranno del Rotari e delle sue tematiche sociali. Tutte le informazioni sui bandi sono sul sito ufficiale della Kermess. Già quasi 150 cortometraggi arrivati da tutto il mondo. E proprio per celebrare le sue caratteristiche principali, l'amore per il cinema e le relazioni in tessuto in 18 anni di vita, il festival ha deciso di adeguare anche la propria denominazione, mutandola in Villammare Festival Film & Friends. A presto!